Si può amare dormendo? Io penso di sì. Vi è mai capitato di sognare la persona che amate? Immaginate di essere nella tranquillità più assoluta, seduti entrambi al tavolino di un caffè. Immaginate di guardarvi negli occhi e di poter capirsi con il solo pensiero. Immaginate di poter sentire la sua voce. Ecco, che cosa vorreste accadesse? Posso chiederti una cosa? Sì. Mi ami? Sì. Perché? Non lo so. Che vuol dire? Non lo so. Vuol dire che non ho una motivazione per farlo. Allora sei un po' matto. Beh, in effetti potresti avere ragione. Ma quando ami qualcuno per la sua bellezza, non è amore, ma desiderio. Se ami qualcuno per la sua intelligenza, non è amore, ma ammirazione. E se ami qualcuno per la sua ricchezza, non è amore, ma interesse. Se invece ami qualcuno e non sai il perché, questo è amore. Si alzò dal tavolino ed io fece la stessa cosa. Fu un abbraccio che riempì in un istante tutti i vuoti di una vita. Perché l'amore fa suonare la sveglia solo quando capisci ogni perché. E' un abbraccio che riempì in un'amore. E' un abbraccio che riempì in un'amore. E' un abbraccio che riempì in un'amore. E' un abbraccio che riempì in un'amore.